Buonasera a tutti i nostri telespettatori, siamo di nuovo insieme per un'altra edizione del telegiornale di Euronews. Diamo subito uno sguardo ai titoli della giornata. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'uccisione del generale Soleimani. Trump twitta la bandiera americana, Teheran minaccia ritorsioni. La Libia mette d'accordo Stati Uniti e Unione Europea che dicono no a interferenze esterne nel paese, no alla missione militare turca Tripoli. Croazia verso il ballottaggio anche dopo il dibattito in tv, i due principali candidati alla presidenza restano alla pari nei sondaggi. Dunque in primo piano l'uccisione a Baghdad di Qassem Soleimani, uno degli uomini più potenti dell'Iran, capo delle forze speciali delle guardie della rivoluzione iraniana. L'operazione, ordinata direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alimenta le tensioni tra Washington e Teheran. I vertici della Repubblica Islamica promettono dure ritorsioni e nel frattempo decine di migliaia di persone sono già scese nelle piazze iraniane per protestare contro quelli che vengono definiti i crimini americani. Warning. In una parola si riassume il tam-tam che si rilanciano in questi istanti le basi militari NATO in Medio Oriente. Il raid statunitense che con l'uccisione del generale Soleimani ha decapitato lo Stato Maggiore iraniano non lascia molti dubbi su quello che accadrà nelle prossime ore. La macchina della propaganda di Teheran marcia a pieno regime e da Washington si risponde alla bella e meglio. Intanto l'Iran Serairang, il generale Esmail Kani, è stato nominato dalla guida suprema Ali Kamenei, nuovo comandante della forza Quds dei Pasdaran, ufficiale meno carismatico del predecessore ma di grande esperienza. La preghiera del venerdì guida l'onda emotiva, tanto che l'Ayatollah Hamad Khatami chiede vendetta incitando i movimenti di resistenza in Iraq, Siria, Libano, dove i combattenti sono in lutto. Qassem non era soltanto un guerriero, un comandante, era la speranza delle persone oppresse in tutto il mondo, dicono le persone comuni in Iran. L'America sappia che proprio oggi, mentre parliamo, nascono nuovi Qassem Soleimani. Tensione alle stelle tra Tehran e Washington dopo l'uccisione del generale Soleimani, mentre i leader europei chiedono moderazione. Il presidente americano Donald Trump ha motivato il blitz in Iraq in una serie di tweet. Il generale Soleimani ha ucciso e ferito gravemente migliaia di americani per un lungo periodo di tempo e stava pianificando di ucciderne molti altri, ma è stato preso, è stato direttamente e indirettamente responsabile della morte di milioni di persone, tra cui di recente un elevato numero di manifestanti uccisi nello stesso Iran. Così Trump, che ha al suo fianco Israele in quella che il primo ministro Netanyahu ha definito una giusta lotta per l'autodifesa. Soleimani è responsabile della morte di cittadini americani e di molte altre persone innocenti, stava pianificando altri attacchi. Al presidente Trump tutto il merito per aver agito in modo rapido, energico e deciso. Le reazioni dei leader europei sono tutte sulla stessa linea, quella della moderazione. La sottosegretaria di Stato francese, Amélie de Montchalin, ha detto che la Francia continuerà a lavorare per la stabilità. Ci siamo svegliati in un mondo più pericoloso, l'escalation militare è sempre pericolosa, lo è ovunque per tutti i motivi, ed è per questo che la Francia lavora e cerca sempre condizioni di stabilità. Moderazione e prudenza le ha fatto eco la vice portavoce del governo tedesco, Ulrike De Mar. L'azione americana è una reazione a tutta una serie di provocazioni di cui è responsabile l'Iran. Siamo a un punto di escalation pericoloso e ora tocca a noi contribuire a una de-escalation con prudenza e moderazione. La guida suprema iraniana a Khamenei ha annunciato una terribile vendetta contro gli Stati Uniti e decretato tre giorni di lutto nazionale. Ma chi era Kassem Soleimani? Gli Stati Uniti consideravano il generale iraniano ucciso nel raid a Baghdad uno dei principali responsabili degli attacchi contro gli USA organizzati in tutto il Medio Oriente. Vediamo. Nella sua autobiografia, Kassem Soleimani scrive di aver iniziato a lavorare all'età di 13 anni per aiutare il padre a pagare i debiti al regime dello Shah. Ed è proprio da lì che nacque un odio che lo spinse tra le braccia dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione. Visionario militare, Soleimani ha creato unità paramilitari specializzate all'estero, come la forza Quds e più recentemente le forze di mobilitazione popolari in Iraq. È stato sicuramente il leader più significativo e importante in Iran non solo degli ultimi quattro decenni, ma probabilmente degli ultimi secoli, spiega un analista dell'International Crisis Group. È l'uomo che ha esteso l'influenza dell'Iran ben oltre i suoi confini, sviluppando quella che gli iraniani chiamano una politica di difesa avanzata, che si basa sul reclutamento di partiti e sostenitori lontano dai confini per scoraggiare attacchi diretti sul suolo iraniano. Lui ne ha la mente, è lui che ha sviluppato connessioni e reti profonde in tutta la regione, dal Libano all'Iraq, passando per la Siria, lo Yemen e l'Afghanistan. Soleimani è tra i più grandi nemici degli Stati Uniti. In una dichiarazione provocatoria, una volta avvertì Donald Trump, voi inizierete la guerra, ma noi la finiremo. E adesso diamo uno sguardo a quello che succede in Libia, alle reazioni di tutto il mondo, alla decisione di Ankara di mandare, inviare un contingente militare nel paese. No a interferenze esterne in Libia. Lo dicono chiaramente sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti, che stigmatizzano il voto del Parlamento turco, che dà mano libera a Erdogan per l'invio di truppe a sostegno di Aserraj. Anche se il suo governo è sostenuto dalle Nazioni Unite, la stessa organizzazione internazionale ha chiesto di non inviare armi a nessuno dei due contendenti. Bruxelles ha ribadito il suo appello a cessare tutte le azioni militari e a riprendere il dialogo politico. Quale sia l'interesse della Turchia, è chiaro, in ballo c'è un'area ricca di petrolio. Se Israele, Cipro e Grecia hanno appena stipulato un accordo per il gasdotto Istmed, Erdogan ha firmato un accordo con la Libia sui confini marittimi, che mira a creare una zona economica esclusiva a danno di Grecia e Cipro. Non è chiaro al momento se Erdogan intende a mandare subito le truppe in Libia o se il voto sia stato solo uno strumento di pressione sul generale Haftar. Croazia verso il ballottaggio il 5 gennaio al secondo turno delle presidenziali. La partita sarà tra la presidente uscente, la conservatrice Kitarović, e l'ex premier socialdemocratico Milanović. I sondaggi sino adesso fotografano una situazione di grande equilibrio. Due ore di dibattito infuocato tra i candidati al secondo turno delle presidenziali in Croazia non hanno mutato il quadro di sostanziale parità secondo gli ultimi sondaggi. La presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović, è accreditata al 38,9%, mentre l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanović, vincitore al primo turno con il 29% dei voti si assesta sul 40%. La donna del popolo, come si autodefinisce, dovrà convincere i sovranisti a votare per lei questa domenica per poter essere riconfermata alla guida del paese. Il suo rivale al primo turno aveva ottenuto un terzo delle voci, grazie al sostegno degli elettori delle città, ma anche grazie alla divisione della destra. I croati sono chiamati a votare solo cinque giorni dopo l'avvio dei sei mesi di presidenza di turno del Consiglio Europeo, che arriva in un momento delicato tanto per Zagabria quanto per Bruxelles. Il futuro della Catalogna è lo snodo di qualsiasi azione politica in Spagna. Il partito indipendentista catalano ha infatti deciso di astenersi sul voto di fiducia al nuovo governo tra socialisti e sinistra di Podemos. In cambio, gli indipendentisti, il cui voto pesa, chiedono di aprire un tavolo negoziale sulla questione catalana. Il partito indipendentista catalano ha spianato la strada all'esecutivo Partito Socialista Podemos, guidato da Pedro Sanchez. I 13 deputati di Eschierra Repubblicana hanno deciso di astenersi in occasione del voto di fiducia, una decisione che metterebbe un punto alla crisi politica in Spagna dopo mesi di stallo, nonostante due elezioni anticipate. Il Premier si impegna in cambio ad aprire un tavolo di dialogo negoziato e accordo per risolvere il conflitto politico in Catalogna entro 15 giorni dall'insediamento del governo. La proposta è che 15 giorni dopo la formazione del governo in Spagna si apra un tavolo negoziale e che gli accordi che ne scaturiranno siano sottoposti ai cittadini della Catalogna in una consultazione legale e concordata che dia loro la possibilità di prendere una posizione. Quali saranno questi accordi dipenderà dalla nostra capacità negoziale. Così il portavoce di Eschierra. È un patto che minaccia la sovranità nazionale, ha tweetato il presidente del Partito Popolare Pablo Casado Blanco, a cui ha fatto ecco Ciudadanos tramite la sua portavoce. Dopo il partito nazionalista basco l'accordo è una bomba contro l'ordine costituzionale perché riconosce che c'è un conflitto politico tra Spagna e Catalogna. Apre la porta alla secessione e non menziona la Costituzione. Ci occupiamo adesso di ambiente perché cresce la preoccupazione in Svezia per gli oltre 20.000 barili pensate contenenti mercurio scaricati in mare 60 anni fa quando le leggi ancora non impedivano questo genere di operazioni. Tra gli anni 50 e 60 23.000 barili contenenti mercurio e proprietà di un sito industriale di Stokvik in Svezia vennero scaricati in mare a largo di Sundsvall sulla costa orientale. Allora non esistevano leggi ambientali per impedirlo e la situazione venne un paio d'anni dopo a galla perché dei pescatori trovarono i barili impigliati nelle proprie reti. Oggi la questione torna prepotentemente d'attualità. Con il passare del tempo ci si è resi conto che le sostanze contenute nei recipienti diventano infatti sempre più tossiche. Il contenuto dei barili è molto probabilmente cloruro mercurico e questa è una sostanza già di per sé molto tossica. Una volta rilasciata in natura però può essere convertita in questo mascalzone il metilmercurio che è ancora più pericoloso. Oggi mentre i barili arrugginiscono il mercurio minaccia di avvelenare il mare è in corso un processo per stabilire chi dovrà incaricarsi di rimuoverli. L'azienda responsabile non esiste ormai più ma il Consiglio di Amministrazione della Contea ha identificato tre società che dovrebbero prenderne il testimone e occuparsi di ripulire il mare. Le tre aziende però rifiutano qualsiasi incarico. Altra emergenza ambientale che sta mettendo in ginocchio l'Australia dove la situazione è gravissima a causa degli incendi. Le navi della Marina Australiana hanno raccolto dalle spiagge centinaia di cittadini mentre decine di migliaia sono stati invitati a fuggire dalle loro case in Australia come dalla città costiera vittoriana di Malakota che è stata isolata per giorni dagli incendi. Le previsioni indicano che il caldo e i forti venti peggioreranno ancora una situazione già gravissima. Venerdì si contavano 200 incendi attivi che hanno reso questa stagione la peggiore in assoluto. Gli stati di Victoria del Nuovo Gales del Sud hanno dichiarato lo stato di emergenza. Dieci morti sono stati confermati nei due stati questa settimana. Le autorità di Victoria affermano che mancano all'appello 28 persone. Anche l'Australia occidentale, l'Australia meridionale e la Tasmania sono investite dal fuoco. Il primo ministro Scott Morrison rimane sotto schiaffo per la sua gestione della crisi. Ci sono stati australiani che non hanno voluto neanche salutarlo. E' assolutamente importante che le persone raggiungano luoghi sicuri ora perché tra circa 24 ore, da adesso anche meno, la situazione sarà ancora peggiore. E quando le persone provano a muoversi in quelle circostanze ovviamente mettono a repentaglio la loro vita e potenzialmente anche quella degli altri. Pertanto lo sforzo di evacuazione è oggi estremamente importante. Il fumo degli incendi ha degradato la qualità dell'aria trasformando i cieli diurni in oscurità quasi fosse notte nelle zone più colpite. I fumi raggiungono anche i cieli del mar di Tasmania e Nuova Zelanda. Da settembre a meno 17 persone sono state uccise dal fuoco e 1.400 sono state le case distrutte. Motorsport, il fascino della Dakar, domenica 5 gennaio in una 42esima edizione che si corre in Arabia Saudita e non più in Sud America. La Dakar cambia di continente. Dopo 29 edizioni in Africa e 11 in America del Sud il rally ride più duro e affascinante al mondo approde in Asia. Domenica in Arabia Saudita 351 equipaggi accenderanno i motori a Jeddah per la 42esima edizione. 12 tappe per un totale di 7.900 chilometri attraverso le montagne, i canyon, le dune del deserto. Il regime saudita spera di approfittare di questa competizione internazionale per dare una spinta al settore turistico e, perché no, per smorzare anche le polemiche. Il regno alla cui guida c'è il principe ereditario Mohamed Bin Salman ha avviato negli ultimi anni una politica di apertura e di diversificazione economica per compensare le perdite dell'industria petrolifera. Il fatto che la Dakar si svolga nel suo paese, però, è fortemente contestato dalle associazioni che lottano per i diritti dell'uomo. L'Arabia Saudita è una vera dittatura, è un paese dove le esecuzioni vengono eseguite regolarmente. L'anno scorso sono state decapitate 180 persone, tra le quali un bambino. Oltre alla repressione di chi si oppone al regime, le ONG denunciano la condizione delle donne nonostante i piccoli progressi compiuti negli ultimi due anni. Certo, oggi le donne saudite sono autorizzate a guidare, ad andare allo stadio, a viaggiare all'estero, ma restano comunque sotto la tutela di un uomo. Le associazioni ricordano quindi agli organizzatori e alle emittenti TV il loro dovere di responsabilità. E ai piloti è stato chiesto di indossare una fascia rosa sul braccio con l'hashtag Free Saudi Heroes, in omaggio agli oppositori politici detenuti. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sulle nostre pagine social.